Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 code per traffico congestionato tra il bivio con la 11 e incisa Reggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPL in rallentamenti tra Firenze Scandicci ed Empoli Ovest in direzione Livorno. Sulla statale Trevis-Tiberina incidente nei pressi di Sansepol-Crosud in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. A Firenze è iniziata oggi la seconda fase per il preesercizio della linea 1 Leonardo della Tramvia, breve percorribile da Scandicci fino a Careggi. La linea è interessata da un preesercizio di almeno 10 giorni deciso dal Ministero dei Trasporti ed avviato il 2 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!